Cosa sta architettando il nostro parterre di ospiti perché questa sera siamo insieme fino alle 23.30 quindi dovrete rimanere incollate al teleschermo per vedere se effettivamente ci saranno sorprese secondo me sì, però chi può dirlo? Lo scopriremo insieme, no? Io le 23.30 lo butto lì Appunto noi finiamo alle 23.28 quindi A me sembra che adesso dobbiamo parlare della compagina Che meraviglia, giustamente subito questa volta guarda quando si scherza ma si deve parlare di Inter, chi è che ti riporta sui binari? Simone Barbato, incredibile, ma è tutto vero amici è tutto vero, è bene sì, è bene sì vabbè, è ora del turnover perché effettivamente Enzaghi vuole un attimo capire se possa andare a Monza con Taremi, Zelischi e Prattesi e attenzione, Zelischi non ha ancora mai giocato una partita con la maglia dell'Inter Beh, questo la fa capire lunga, no? Su quale rosa strabordante ha l'Inter nazionale Su quanti giocatori ha... Avrei più pensato un infortunio, ma magari sbaglio io, eh? Perché devi sbrodolare così? Su questo strapotere, quando dicono la corazzata Quest'anno è veramente una corazzata l'Inter perché siamo molto più forti dell'anno scorso abbiamo un'amalgama maggiore, i giocatori ormai sanno i movimenti a memoria e quindi vedere una squadra che gioca a memoria è sempre bello Sempre bello per tutti i tifosi che vedono la propria squadra Anche perché l'Inter è una di quelle squadre che ha cambiato meno, no? Sul mercato a livello proprio di rosa perché giustamente oltre a qualche nesto tipo Zelischi non aveva grandi necessità, Emanuele No! Di sicuro Taremi e Zelischi sono stati presi tanto tempo fa di fatto dal gennaio erano già in parola, in accordo con l'Inter Serviva un vice Sommer che fosse in prospettiva potenzialmente titolare non so se sarà Martinez, però 15 milioni è stato pagato quindi sì E poi l'infortunio di Buchanan ha convinto la proprietà a investire non in quello che voleva Inzaghi Giustamente perché Palacios E' inutile negarlo, non a caso Palacios è finito fuori dalla lista Champions e hanno preferito mettere Buchanan infortunato in lista perché Inzaghi voleva Ermoso o perfino Riccardo Rodriguez e la proprietà ha deciso, erano a zero ha deciso spendiamo poco per uno futuribile e lui ti sta facendo capire che i due giocatori per cui hai speso da quando è arrivato Ok3 perché Zilischi e Taremi sono arrivati presi da Marotta quando c'era ancora Zhang da quando c'è Ok3 sono dispesi 15 più 6 e mezzo per Martinez e Palacios e per Inzaghi contano zero quindi mi sembra che in questo momento le rette di Inzaghi e di Ok3 siano parallele e non si stiano intrecciando però sinceramente l'ora del turnover a Monza non lo so forse frattesi perché Barela bisogna capire come rientrare l'infortunio poi hai City e Milan se non lo fai a Monza non lo fai neanche con City non lo so io Inzaghi che cambia questo inizio di stagione ci sta dicendo che non è cosa che se può far giocare gli stessi 11 da qua alla fine del campionato può giocare gli stessi 11 da qua secondo te tra Monza, City e Milan fa tutte e tre volte la stessa formazione? no, è possibile può essere frattesi e Zilischi non chiedono spazio a mister Inzaghi? frattesi e Zilischi non chiedono spazio a mister Inzaghi? frattesi è un'estate che sta chiedendo frattesi è un scorso che piange per giocare è un po' una provocazione infatti infatti il suo agente in quest'estate ha provato a trovare qualcosa e gli è stato detto non ci provare o meglio alle cifre di questo mercato non ci provare tornerà utile perché quest'anno ci sono ma di partire però devi accertare di far sempre la panchina non è semplice ma quest'anno secondo me la panchina la faranno pochi giocatori perché con tutte le partite che ci sono io non credo che i frattesi possano accontentarsi di giocare a una Coppa Italia o di giocare a Monza, di giocare a Venezia cioè un giocatore che vuole far parte dell'Inter da titolare contro il Milan, contro la Juve, contro la Roma giustamente non si accontenta di giocare con il Sassuolo poi per carità magari ci sarà l'anno scorso è andata anche tra virgolette male a lui bene all'Inter perché di infortuni non ce ne sono stati certo aumentando il numero di gare bisogna essere bravi anche a gestire queste cose stiamo vedendo in casa di Juventus come qualche infortuna c'è già stato e non siamo ancora entrati nel vivo della competizione lo spazio per gli altri sta iniziando ad esserci quindi è ancora lunga, bisogna capire come si evolverà la stagione credo che fra tutti gli acquisti l'unico che davvero in Zaghi Baluta è Taremi perché degli altri due che sono a Nato di Cicorrea non se ne fa niente non si fida, lo so anzi ragazzi è stato dichiarato più e più volte che avrebbero voluto molto volentieri accompagnarli però Correa non è ancora finita alla porta forse va in Turchia no no c'è il Panathinae, questo in Grecia dacci due nozioni, due numeri poi andiamo alla Francesca due numeri pagano l'ingaggio e l'Inter lo libera e l'Inter lo libera e l'Inter lo libera esatto l'Inter feste fa anche minus valenza se finisce così forse fa un presto per finire l'anno con l'ingaggio pagato dato che si può fare senza diritti di scatto e niente a fine anno poi sarà lui a trovare una squadra a parametro zero quest'anno dopo tanti anni per me da tifoso è l'anno in cui sono più rilassato perché non avendo dato via non avendo dato via rilassati, rilassati, rilassati va benissimo è l'anno in cui sono più rilassato come mai respiro perché negli ultimi anni abbiamo visto una squadra dare via due o tre giocatori fondamentali della Rosa e poi hai dovuto ricostruire con fatica poi ce l'hai fatta lo stesso a essere competitivo poi hai dato via di nuovo due o tre quest'anno non hai dato via nessuno e quindi io nessuno ho questa sensazione di nessuno di sollievo nessuno me la godo quest'anno nessuno nessuno dato via qualcuno ma la squadra comunque il grosso della squadra io a Genova ho visto una differenza l'anno scorso ho visto una differenza l'anno scorso a Genova e io abbiamo gli stessi giocatori la stessa Rosa a Genova ho visto una differenza poi ho detto che non è andato via nessuno io ho visto a Genova giochiamo meglio dell'anno scorso hai visto un rigore dato contro a Genova ho visto che Rocchi non c'era in Rosa hai visto sapevo che arriva lì allora troppo facile stavolta troppo facile non mi sembrava la stessa cosa l'anno scorso entro io voglio rispondere a Matteo visto che prima si stava parlando di frattesi abbiamo delle dichiarazioni che mi segnala Michele Borrelli che come sempre è sul pezzo quando è nella nostra regia e appunto le sue dichiarazioni proprio in merito anche al fatto di magari non essere tanto impiegato ti prego Matteo Mosconi aiutami dice io devo dare sempre di più perché si può sempre migliorare quindi sicuramente parlando di fase di costruzione va fatto uno step in avanti la concorrenza centrocampo dovremo sgomitare per avere più minuti ah e poi tra l'altro ci sono chi è scusa questo frattesi frattesi ah frattesi ok perfetto e poi ci sono anche naturalmente anche delle notizie positive per l'Inter vedi Buchanan che era in casa recupero va velocissimo dovrebbe tornare in campo a ottobre non l'hai mai visto e poi c'ha la Noglu è tornato in gruppo con la Turchia è il motivo per cui dopo Bastogna anche lui che è recuperato vi è passato sotto traccia prima che avete parlato di Palacios voi due signore lì in questione ha chiesto ma è parente di Palazio che è Rodrigo senza S quello con cui ho fatto un giro sugli autoscontri l'altro giorno aiuto è un altro quello con cui ho fatto un giro sugli autoscontri l'altro giorno lo sai che Roberto Baggio e Dino Baggio non erano parenti solo perfetto dicevo commenti di buone notizie commento di frattesi che comunque dice lo so che devo sgomitare speriamo io mi deve avere più di minuti sicuramente deve sgomitare perché come diceva giustamente Trama e hai preso il fantacalcio no l'avevo preso ma poi l'ho ceduto per Politano perché ho preso Neres ma vabbè questa è una scorsa parte abbiamo proposto uno scroll delle notizie di Mosconi ve lo dico che sarebbero i titoli che passano no veloci a parte a parte gli scherzi secondo me Trama prima diceva una cosa giusta cioè che se Inzaghi potesse giocherebbe con quell'11 titolare tutte le partite e aggiungo una cosa soprattutto a centrocampo cioè secondo me se lui potesse c'è la Norlu Barella Mkhitary non gli toglierebbe mai mai e poi mai perché sono tre giocatori che sono perfettamente inseriti nel modo di giocare dell'Inter e che secondo me la loro prestazione di fatto inficia sulla prestazione della squadra se giocano bene i loro tre l'Inter gioca da Dio se giocano male l'Inter fa più fatica però frattesi e finisco prego 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 cioè deve dimostrare di aver voglia perché potenzialmente secondo me è un giocatore molto forte che può fare benissimo anche nell'Inter però deve dimostrare di avere la voglia e le qualità perché fino ad ora e secondo me già le prossime tre partite quelle che dicevamo con Monza City e Milan lui lo spazio se lo può ritagliare magari non col City però col Monza sì e deve dimostrare col Monza di poter fare bene anche se è una squadra magari più piccola certo che comunque può fare la differenza è chiaro Francesco sai perché secondo me Marotta ha fatto quel quel contratto con i due milioni di euro in più sullo scudetto come bonus per l'allenatore vai perché ha capito che deve pungolarlo su qualcosa di differente ovvero a cosa mi riferisco io quando la Juve di Conte fu plasmata da Marotta insieme a Conte stesso poi Conte andò via dopo tre anni tra i scudetti consecutivi arrivò a Allegri Allegri il primo anno non toccò assolutamente nulla fino a marzo a marzo del primo anno incominciò a studiare un centrocampo diverso una difesa a quattro mettendo i giocatori in modo differente con gli esterni che salivano in un modo diverso eccetera eccetera per poi fare un cambio totale l'anno in cui arrivarono Manzo Kicibala Quadrado Higuain eccetera eccetera per fare giocare con Pianic in una formula 4-2-3-1 fantasia che prevedeva un gioco diverso anche europeo la Juve faceva molte partite interessanti dal punto di vista di tattico e di gioco Inzaghi questo non lo fa lui ha ragione cioè Inzaghi oltre a giocare con i suoi ad oggi non vedo un'idea differente o uno switch magari su febbraio gennaio dicembre dove sorprende tutti dice sto costruendo una cosa in cantiere me la vado a giocare con un sottopunta che non ha mai giocato con quattro centrocampisti con quattro difensori alla Tegomotta che stupisce lo fanno i grandi gestori con gli spogliatoi al completo visto che in questo momento Inzaghi è un allenatore con uno spogliatoio forte è una prima e una seconda scelta di livello altissimo è lui che deve fare lo step di differenza per quello che dicevo prima Simone non tanto provocatoriamente che se Inzaghi quest'anno non vince un scudetto va cacciato perché con una squadra del genere se tu arrivi secondo dopo i due scudetti persi prima o vinci la Champions allora lì nessuno dice niente però visto che parliamo di torneo oppure io vedo negli occhi di Marotta i cuoricini che vanno ovunque e che portano a Milano il suo grande amico storico di sempre quello che stai dicendo tu veramente mi pare come che è sempre Massimiliano a lei quello che hai detto tu adesso è come trovare proprio trovare l'aggo nel pagliaio non è l'aggo sai perché c'è l'aggo nel pagliaio perché l'Inter è una macchina perfetta e secondo me fa bene esistere quei suoi perfetta non pareggiavi a Genova lungi da me lungi da me difendere quelli là figuriamoci alleatore di quelli là va bene ma chi sono di quelli là tu e tu sai che io sono tuo cugino tu io non ho cugino guarda che tra cugini lascia stare esatto cugini cugini poi ti rubano la cugina io una modifica l'ho vista cioè Genova ha messo tre punti o sbaglio eh sì perché doveva recuperare doveva vincere la partita però era una roba che gli anni scorsi non faceva va bene se non le aveva esatto adesso 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 faremo adesso faremo è questione di qualità però quello che dici tu può andar bene dopo tre o quattro anni che una squadra gioca con lo stesso modulo per me è una cosa positiva giocare con gli stessi giocatori e avere un'idea e continuare con quella per me è positivo Simone perdonami ma è cinque anni che c'hai tre cinque due cinque anni parlo di questa rosa applicata a questo modulo faccio concludere Emanuele per me è una cosa positiva dove è che vediamo la mano dell'allenatore oltre a mettere Di Marco a sinistra e quadro da destra cosa che Allegri non faceva perché Allegri si divertì a mettere il mancino invertito si vede nel calcio champagne che esprime quale champagne che sei uscito con l'Atletico Madrid dagli ottavi cosa stai dicendo siamo usciti ai rigori vincevi 2 a 0 vincevi 2 a 0 tu il tuo calcio champagne da 2 a 0 da 2 a 0 è finito 3 a 2 e devi ringraziare che quello lì sbaglia il gol al cento ventesimo perché sennò non va neanche rigori abbiamo preso un imbucata con una squadra che non ha fatto niente abbiamo preso un imbucata non era imbucata hai preso 3 gol con una squadra che perdeva 2 a 0 fortunoso un gol allora secondo me la mano di Inzaghi si vede perché il modo di giocare rispetto a Conte è cambiato il problema che vedo io anche quest'anno è cambiato leggermente in alcuni posizionamenti come ad esempio Di Marco che entra molto di più dentro al campo quello che dicevo prima si è accorto che Di Marco non riesce a fare 90 minuti allora ha modificato un po' il suo modo di stare in campo per potergli far fare 90 minuti potenzialmente e il problema di fondo è che la mano di Inzaghi io la vedo con questo 11 e basta esatto per me è il problema più grande che c'è da inizio ci vedi un 4-3-2-3-1 si con un altro allenatore forse non lo so con lui con lui no per questo dico chi mette sotto punta cioè questa è una squadra che potenzia parate a pensare al valore è molto vincolato ok dietro a una punta con i vari Cialanoglu Barella Turam che era un esterno in Francia potrebbe tornare a fare l'esterno che tanto segna lo stesso con un 4-2-3-1 quindi tu dici giocare proprio come la Francia cioè con quell'albero di Natale trovare delle idee in un momento in cui deve fare un salto di qualità dal punto di vista proprio di diversità di gioco perché adesso giocano in Moria fanno quello che vogliono perché giocano insieme da tre anni ma anche perché hanno sempre il suo modulo e perché hanno una qualità giocano senza bendati Cialanoglu Grubarella Lautaro Turam cioè anche Pavard è un campione del mondo pagato 30 passa milioni è uno con una qualità altissima non è a Cerbi che non sa impostare capisci? eppure a Cerbi è l'intoccabile io mi aspetto che questo Inter qua possa essere vulnerabile su che punto? sulla continuità le giocheranno al stesso modo cioè e quando incontri difficoltà magari quest'anno in qualche modo ti fermi sì o sei un infortunato che devi rimpiazzare e poi ragazzi sei sempre giocato in quel modo lì a Rose ragazzi non c'è nessun tipo di partita certo se succede sarà più bello te lo dico prima no io dico che invece il fatto che l'Inter sia ormai focalizzato sul 3-5-2 è un punto di forza nel senso che ormai ha quel modulo intrinseco all'interno e quindi sa giocare in quel modo lì però se toglie barella e metti frattesi non è la stessa cosa ma pure se toglie Mkhitaryan e metti chiunque altro Mkhitaryan l'abbiamo detto prima che Mkhitaryan barella e Cianorlu sono i punti cardini di quest'Inter secondo me è ancora più di quanto lo possono essere Lautaro De Vrij e tutti questi agenti qua è lì nel centro ti mancano due di questo calibro certo se cambia formazione mi alzano però proprio perché l'Inter ha una panchina incredibile ha di fatto due squadre e io sono dell'idea che pur togliendo magari uno o due elementi di qualità e alla fine la solfa rimanga sempre quella c'è una squadra forte una squadra difficile da battere certo magari qualche ingranaggio può andare più a rallentatore rispetto che con i titolarissimi però io non credo che togliendo barella e mettendo frattesi l'Inter diventa un punto di debolezza in prospettiva l'età media e beh certo sicuramente arriverà un momento in cui dovrà fare non si è mai abbassata è molto alta c'è il calcolo che la Juve è arrivata a 24 anni e un mese il Milan è a 27 e mezzo l'Inter è oltre i 30 ci fermiamo ragazzi attenzione perché il mercato mi hai fatto dire del Spalletti cosa dovrebbe fare ma sì ma adesso me lo dici pre-mercato tanto Spalletti è esule da discorso Inter no è proprio quello deve dimenticarsi il blocco Inter ah scusami è vero hai ragione deve dimenticarsi il blocco Inter che dovegna prima si dimentica del blocco Inter quindi si deve dimenticare questa parte di trasmissione il blocco Inter bravo questi 15 minuti deve dimenticarseli a che neanche prima a chi è che l'avamo paragonato Simone Barbato con Seisau che ti è fiondato sulla nostra poltroncina prossima pausa pubblicitaria faccio sparire la poltroncina voglio vedere dove si mette non a caso sono la lepre dell'Alto Monferrari vabbè la lasciamo dai diamo i voti diamo i voti è giunto quel momento della nostra mitica puntata in diretta a cui ha andato il calcio show nella quale diamo i voti al calcio mercato sono curiosa di sapere anche la vostra fateci sapere anche attraverso i commenti della nostra live su facebook perché effettivamente lì si possono scatenare i nostri amici eccola qua la nostra grafica del mercato serie A i voti degli ospiti attenzione ringraziamo ringraziamo il Loco Borrari che ci ha manato la grafica grazie grazie Loco Borrari 23.08 tutto va bene tutto va bene caro Francesco Pini lei è il mio primo ospite in grafica e dobbiamo partire dall'Inter quindi come funziona lo spiego anche per chi da casa appunto non avesse mai visto questo giochino partiamo ovviamente dalla prima squadra segnalata in grafica e tutti gli ospiti ci daranno i propri voti quindi Inter sentiamo Pini Tramacere Mosconi Barbato e poi Juventus e poi Napoli ok allora Inter 9 9? sì aggiunto e basta aggiunto e basta senza perdere nessuno se non Rocky ma quello è un dettaglio no scherzo era battuta per fare la fastidio Simone per me l'Inter ha fatto un mercato a 9 perché quando aggiungi questi giocatori qua di questo calibro a una squadra di questo tipo senza togliere nessuno ok dopo un momento come quello che c'è stato quest'anno con sappiamo benissimo no 3 eccetera eccetera il voto per me è 9 è 9 e il nome che più ti ha magari sconquista esatto del mercato del mercato o dell'Inter? del mercato Inter Taremi ha segnato la gente non sa che Taremi ha una media goal superiore a quella di Lautaro Martinez è vero quindi fate voi poi c'è Zelinski che giocherebbe in qualsiasi squadra di Serie A di quelle tutte sotto il portiere vabbè no però tutti gli altri li ha tenuti e ha preso anche Palacios adesso può essere che insomma è uno che a qualità nei piedi ne ha molto lo chiamano il dribblatore difensivo oh oh quelli giocatori che mi piacciono a me no no lui ha capacità difensiva di dribbling molto elevate poi ovvio che bisogna difendere quindi è un'altra cosa però io ti dico 9 perché non è affatto un mercato sponeggiamo quando non vendi nessuno e se è una squadra così e rimane quella e ti rinforzi eh sì e ti rinforzi signor Emanuele Tramacere io do 7 ok perché Taremi è un gran bel acquisto ok però i soldi che avevi da spendere secondo me li hai spesi senza accontentare alcune richieste di mister Inzaghi ma quello anche chi se ne frega però li hai spesi in due ruoli che potenzialmente non ti servivano cioè secondo me l'Inter resta è vero che è la rosa più completa di tutte ma secondo me dei punti da potenziare meglio ci dovevano essere tipo tipo manca la quarta punta cioè Arnautovic Correa sono rimasti mentre tu avevi in progetto di venderle entrambi e far entrare Gudmundson perché questo era il progetto e non l'hai fatto e il difensore centrale il perno dietro sono rimasti a Cerbi De Frey con un anno in più entrambi e in più secondo me a destra considerando che Buchanan per Inzaghi è un esterno sinistro al momento adesso sei rimasto con Darmian che non hanno in più e Dumfries che già non ti piaceva più di tanto l'anno scorso quindi sicuramente hai aggiunto Tareme e Zininski che sono due elementi in più ti serviva a mettere di fianco a Sommer un portiere di altissimo livello secondo me per il presente e per il futuro hai messo un portiere che può crescere ma non so quanto vale pagandolo 15 milioni praticamente quasi tutto il tuo budget certo e su Palacios sì è un investimento per il futuro però secondo me serviva a investire in altre in altre parti ottimo mercato buon mercato io avrei speso diversamente quindi 9 e 7 per ora siamo a quota 8 di media Mosconi 7 e mezzo 7 e mezzo sarò più veloce se no non riusciamo a farli tutti i voti e ottimo mercato mercato già chiuso a gennaio ottimo colpo Taremi non mi convince Palacios cioè avrei preferito forse un parametro zero di esperienza fosse stato un tifoso dell'Inter che poi è andato alla Roma quindi significava che dal punto di vista dell'ingaggio potevi forse farcelo anche tu nel prenderlo però direi che l'Inter ha detto bene Francesco non ha perso nessuno ha aggiunto quindi io do un 7 e mezzo perché per me ci sono società che hanno fatto un mercato decisamente migliore Simone Barbato posso figurarlo qui davanti tanto anche se sono leggermente in ombra posso farlo lo stesso tu mi dici la squadra e io ti farò il numero e e adesso prego mi togli la giocca di casa dei come fai a fare un numero Inter ah 10 raga prego facciamo una squadra per volta eh sì è finito però i tijisti di grafica dobbiamo fare una squadra prego tutte di file eh no ma come non hai seguito ma lui ma lui quando parli arrivano via mail mi fa volare mi fa volare il nostro Barbato quindi 8,37 di media ah ti si messa certo dai dai una stima media certo perché io poi voglio capire chi vince però il 10 è falsa eh sì non l'ha spiegato proseguiamo proseguiamo la prossima in grafica chi è regia dateci questo spoiler Juve Juve prontamente aprono i microfoni ma che meraviglia opini 9,5 9,5 9,5 perché e questo non significa che la Juve sia più forte dell'anno scorso per forza o che sia competitiva con l'Inter un mercato di questo genere va premiato così perché tu hai fatto con un totale alla fine di in bilancio di 59,8 che ti entreranno a fine stagione compresi 50 milioni di 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 risparmiati che hai fatto con le cessioni giovani mi prospetto ma comunque a queste cifre e li fa e fai il mercato con la tua next gen quindi con il tuo prodotto interno hai fatto una cosa molto interessante molto 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 buona avevo paura alla fine che saltasse l'affare con Menes perché mi sembrava arrivata un po' lunga la situazione su di lui per questo non do 10 e non do 10 perché secondo me Di Gregorio quest'anno era superfluo rispetto a uno Shesney rispetto a uno Shesney in uscita era superfluo l'acquisto a 18 milioni potevi investire sul reparto magari diverso che ti poteva servire in attacco per esempio e tenerti Shesney per un altro anno con il rischio di poter perdere Di Gregorio va bene che gioca bene coi piedi ma per me uscita e comprando Di Gregorio con una spesa totale di 18 milioni è una cosa superflua che ti fa abbassare il voto da 10 a 9 e mezzo però non c'era io do 8 perché sono stati chiusi tanti dei colpi che aveva in mente giuntoli secondo me forse 8 meno mettiamo così se si può 8 meno se no lasciamo 8 8 perché è difficile calcolare perché hai comunque alla fine mancano degli rinforzi cioè la rosa non è completa credo che a sinistra cabal sia stata una toppa non un'idea manca un vice Vlauic manca un vice cambiato però a questa squadra serviva una rivoluzione questa rivoluzione è stata messa in atto quasi quasi del tutto la mia pecca secondo me bisogna consigliare il meno è comunque Chiesa l'hai svenduto che da Chiesa potevi ricavare di più Matteo Mosconi allora io alla Juve vedo 9 per me è il mercato migliore dell'estate non do 10 perché il 10 è la perfezione nessuno è perfetto quindi 9 alla Juve ha fatto tutto per azioni importanti io non sono d'accordo con Fran nel senso che secondo me di Gregorio è un ottimo investimento secondo me è il miglior portiere italiano di prospettiva che c'è quindi la Juve ha fatto bene a prenderlo e poco da aggiungere Giuntoli ha operato bene alla fine anche Copminers tirando e tirando l'hai portato a casa quindi non vedo come non possa essere il mercato migliore Simone Barbato attenzione a pensione abbiamo con la bassa la media cos'è 0? forse è un 8 a 8 si 8 meno 0 0 no sono i due pallini secondo me 8 meno bravo Mosconi non si può dare il meno 8 basta fine della questione ragazzi è perché non riuscivo a fare 7 più effettivamente 8,6 quindi la media andiamo avanti c'è il Napoli Francesco io avrei dato 10 per il mercato in entrata in generale ma la pecca che è una pecca da 3 abbassa drasticamente la media e quindi faccio una media tra 10 e 7 data 10 e 3 fatela voi 13 diviso 2 6 e mezzo tra macere tanto basso troppo troppo ma guarda che il contratto di Zimane è pesante e poi soprattutto tu hai tirato per le lunghe Luca tu hai speso un sacco di soldi convinto che ti entrassero da quello affare lei non ci rimetto io quindi vabbè 8 e mezzo secondo me è meglio della Juventus perché anche qui serviva una rivoluzione serviva a dare ad Antonio Conte tutto quello che serviva e hanno dato ad Antonio Conte tutto quello che serviva tranne uno che è l'esterno destro di centrocampo dove ci hanno provato fino all'ultimo ma non ci sono riusciti però voleva Lukaku gli hanno preso Lukaku voleva due centrocampisti diversi da Angissi e Lobot gli erano presi serviva a prendere almeno due difensori centrali da aggiungere a quelli che c'erano gli erano presi e di livello così è attenzione io ho detto 10 però diventa poi 4 sì certo con la postilla Osimè io al Napoli do 8 quindi di fatto spoiler che è la seconda migliore dell'estate secondo me per me con Conte probabilmente con Conte bene tutte le operazioni male la gestione Lukaku Osimè ha ragione Francesco però non me la sento di abbassare troppo perché alla fine poi Osimè in qualche modo sei riuscito ad accompagnarlo all'uscita sei riuscito a fare un anno di pagamento dello stipendio al Galatasaray quindi tu alleggerisci l'anno prossimo se ne discuterà valuto le operazioni la squadra è migliorata Conte è stato accontentato quindi però Galatasaray giusto ricordarlo paga fino a 6,5 la differenza mette il Napoli Coppini voto Mercato Lazio 6,7 squadra che si è rinfrescata 6,5 quindi per aiutare la nostra energia nel computo 6,5 vi semplifico la situazione 6,5 non dico nient'altro va bene Emanuele Tramacere sono d'accordo 6,5 scusami no perché serviva dare una svecchiata è vero che hanno perso tanta qualità però era un ciclo finito lo stanno ricominciando con un ottimo allenatore ok Matteo Mosconi sono d'accordo però do mezzo voto in più quindi 7 alla Lazio ok perché c'è una ti fa svoltare no perché è tutto vero sulla freschezza ma anche i profili presi sono profili che mi entusiasmano quindi 7 per Matteo ma è stata un'eccezione la nostra energia è più grandissima diviso 4 6,62 la Lazio ragazzi Atalanta per Francesco Oppini 4 pesante ci sta 4 hanno comprato degli ex giocatori e hanno venduto un giocatore serio tenendo il punto per mesi e non prendendo la cifra che poi volevano ci sta per far solo casino Emanuele 5 perché io qualche mese fa dicevo che l'Atalanta sarebbe stata da scudetto con il mercato che Gasperini aveva in mente Gasperini contro l'Inter ti ha fatto notare che tutto ciò che gli hanno comprato non gli serve esatto no è vero esattamente l'abbiamo sbattuto in faccia lui così con l'approvazione non benissimo Matteo Mosconi ma io invece do un 6 una sufficienza la do perché l'unica sufficienza per ora sì perché secondo me poi alla fine è andata a prendere in sostituzione della gente che è uscita dei prospetti futuribili che possono crescere sotto la guida di Gasperini che comunque sappiamo potenziare però possono crescere signor Simone 6 6 ok 6 cos'è? 6 e mezzo 6 e mezzo 6 e mezzo da 6 a 7 che diviso 4 fa 5,37 ragazzi quindi per ora è la prima a essere rimandata la Dea il Milan interessante però non so se scendo dal carro del Trantala Scudetto ci devo pensare ancora va bene già hai cambiato un po' Dea dai al Milan al Milan do 7 e mezzo per gli acquisti in generale ok perché con un 8 sarebbe arrivato un 8 con un'altra punta in più perché Ciucuese non può essere la punta centrale di riferimento se non c'è Morata Ciucuese scusami Ocafor perché è più un esterno che una punta sì ok scusami perdone è vero questo me l'ho completamente dimenticato quindi gli do un 8 per il mercato e do un 5 per l'allenatore e quindi la media la fai tu tra l'8 e 5 perché per me Fonseca è proprio l'unica cosa che non doveva fare il Milan oggi ragazzi siamo veramente come si dice a regime di media 8 e 5 6 e mezzo quindi 6 e mezzo 6 e mezzo 6 e mezzo per Pavlovich ok ma se devo fare mettiamo 6 e mezzo perché alla fine comunque hai preso Pavlovich hai preso qualcosa che ti serviva però se devo pensare che sul mercato c'erano Conte e Lucacchi e tu hai chiuso con Fonseca e Morata eh forse qualcosa è sbagliato boh non mi convince questo però Pavlovich c'è un gran bell'innesto io do aggiungo anche Emerson Royale Calabria non hai fatto 7 Matte Mosconi io ho 7 ok do 7 perché ha intervenuto dove doveva intervenire Barbato il Milan sono un po' indeciso sai vai puoi dicerlo domani eh dai che abbiamo un minuto prima della pubblicità potrei darti questo voto qua aiuto 4 ok ragazzi Roma per Francesco Oppini eh male all'inizio molto bene nel finale io alla Roma do un 7 e mezzo e in tutto ciò il Milan quindi è uscito 6 da noi 7 e mezzo questo perché Kone per esempio nella partita con la Juve ha fatto cambiare molto il dinamismo del Citrobras che è un giocatore molto interessante oltre agli altri che hanno preso giovani di prospettiva io do 7 anche se non è quello che voleva De Rossi ok 7 7 invece Barbato 7 7 e mezzo cioè 7 7 virgola facciamo 7 perché come avevo scritto così 7 virgola 12 la Roma quindi ragazzi il mercato che qui negli studi di Networking questa sera vince quello della Juve 8,6 segue l'Inter 8,37 e poi troviamo Napoli Roma Milan e bocciata l'Atalanta quindi l'ultima proprio che non supera gli esami riparatori di settembre è l'Atalanta vedremo se però effettivamente sulla carta ci deve pensare in competizione per lo Scudetto o meno è l'Atalanta